Buongiorno a tutti, sono Elisa Conticelli, insegna urbanistica al corso di laurea in architettura e ingegneria presso l'Università di Bologna. Questo insegnamento si colloca al terzo anno ed è volto a introdurre lo studente alla disciplina della pianificazione del territorio, quindi alla definizione di tutte quelle che sono le regole di corretto sviluppo degli insediamenti urbani e del territorio qui in generale. Urbanistica è anche la disciplina che affronta per prima i temi della pianificazione, per questo motivo viene affrontata secondo una prospettiva storica, partendo dalle prime teorie urbanistiche sviluppate alla fine dell'Ottocento e nei primi anni del novecento, per poi andare a definire quelli che sono stati gli sviluppi successivi fino ai giorni nostri. Successivamente si affronta in maniera più approfondita il contesto italiano dal dopoguerra in poi, fornendo i riferimenti principali riguardo all'impostazione generale del sistema di pianificazione nel nostro paese e nella sua evoluzione nel tempo, concentrando l'attenzione da un lato sulla strumentazione urbanistica, quindi affrontando i contenuti e gli aspetti dei piani urbanistici, dei parametri degli indici urbanistici e dall'altro su temi che pian piano hanno arricchito la disciplina, come la questione abitativa, la tutela dei centri storici o la protezione dell'ambiente. Il percorso si chiude con le innovazioni più recenti sia in termini di temi che di strumenti di pianificazione, quindi parleremo della riqualificazione e la rigenerazione urbana che prendono il posto dell'espansione dei centri urbani e la nuova impostazione del piano urbanistico che è più orientato a regolare la trasformazione dei centri già esistenti piuttosto appunto che l'espansione sul territorio. Da quest'anno il corso si arricchisce di una parte laboratoriale non prevista negli anni precedenti in cui si propone gli studenti di esercitarsi su due momenti fondamentali per la costruzione del piano attraverso lavori svolti in gruppo. Da un lato l'analisi del territorio che verrà svolta anche con l'ausilio di software GIS e il progetto urbano che consente allo studente di familiarizzare con la strumentazione urbanistica il dimensionamento e la caratterizzazione funzionale degli ambienti urbani. Urbanistica è quindi una disciplina che intende mettere a sistema le conoscenze che lo studente acquisisce nei primi tre anni per cercare di fornire una visione olistica di quelli che possono essere gli effetti o le regole di trasformazione del territorio partendo quindi dalla scala edilizia fino ad arrivare alla scala urbana e territoriale.